Sicuramente come gruppo e come annata per il momento è la prima perché mi sono veramente affezionato ai miei compagni e al mister perché sono veramente un gran gruppo e anche le vittorie sono sempre state belle perché sofferte e abbiamo sempre messo il cuore in quello che facciamo. E' sempre una gran gioia soprattutto nella semifinale di primavera allo scadere, non so, è una gioia infinita solo che siamo anche dispiaciuti per l'infortunio della Lazio quindi è sempre stata una gioia a metà diciamo. Sicuramente al mister della squadra ma soprattutto ai miei genitori e ai miei fratelli. Sinceramente non ho mai smesso di crederci, anche come abbiamo dimostrato la partita prima con l'Atalanta abbiamo sempre tirato sulla testa e provato sempre a vincerla. Tutte e due sono delle belle grandi squadre, l'hanno dimostrato sia con la Juve sia con il Palermo, sono tose tutte e due, io non saprei di avere una preferenza. No, no perché alla fine decide il ministro, è lui che decide e io faccio quello che mi dice lui, nel senso se devo entrare entro, se invece devo stare in palchino sta in palchino.